Per esempio, prima c'era qualcuno che vi faceva i dispetti con la luce. Vero, Christian? Dove sei? Christian? Eh, ma sei tu? Ma cosa stai facendo? Dai! Ma... Oh! 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 No! No, dai! Ma non fare così! Tiami su! Tiami su! Tiami su! Dai, adesso basta! Dai, facciamo un po' in serie adesso! Ma no! Cioè, nel senso che... Ma mi mandi via! Ah! Ah, e adesso la scena qui è tutta mia! Oh, finalmente ragazzi, possiamo incominciare il laboratorio! Allora, dunque... Ne sei proprio sicuro? Adesso sei tu che sei piccolo e io ti mando via! Lucia? Forse ho un'idea! Lucia? Lucia, dove sei? Lucia? Ti? Dimmi? Chi è? To, 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 to! Ah! La luce... Manda via le ombre! E così possiamo incominciare per davvero! Allora... Vabbè, dai, facciamo pace, dai! Vabbè, dai, facciamo la pace! In fondo, siamo tutti due delle ombre, no? Sì, siamo tutti due delle ombre! Ok! Andiamoci la mano! Ci diamo la mano! Dai, dai, diamoci la mano! Allora, dai, diamoci la mano!